Il mio nonno è contadino Siamo alla periferia di Novara e per il terzo anno consecutivo la signora Domenica ha realizzato zucchine da Guinness nel suo orto. Ce n'è una lunga addirittura a un metro e ottanta, non è vero signora? Sì, sì, un metro e ottanta. Ma quale sarà il segreto di tutto questo ben di Dio? Tanto amore, sì, sto sempre lì, l'acqua, da rubinetto. Come si chiamano queste zucchine? Questa qua è la trombetta. La zucchina a trombetta? Questa, questa. Queste qui, questi quattro, cinque sono a trombetta. Questa invece è invernale. Che cosa ne farà? Li mangiamo, facciamo il risotto con la zucca. Bisognerà accontentare anche i vicini. Sì, esatto, i vicini, i passanti che passano. Come questa ragazza che è una vicina di casa e che per il terzo anno consecutivo ammira lo splendore di questi prodotti dell'orto. Sì, mi sono stupita per tre anni tantissimo per queste zucchine che ha fatto a me in cena di casa. Anche tuo papà? Sì. Sa rabbia? Sì, anche mio papà sa rabbia perché dice a lei sì, a me non mi scresco. E ormai signora, le avrà collocati in dei posti strategici? Sì, e ormai sui posti per essere, cioè per venire lunga così, devo trovare i posti dove può scendere perché se no si ferma. Come è la cucina la zucchina signora? Questa qua la pelo e faccio il risotto. Risotto con la zucca. Oppure i ravioli, sono buoni anche i ravioli. Complimenti allora. Bravo. E buon appetito. Grazie.